come ti ha zato di venire su che lui ha fatto un russi che è una meraviglia non era molto forte, ah perché tu ce l'hai più forte comodo ce l'hai più forte lui sai che anche lui sa ruttare dal duo comodo, ma lui sa d'andare allora, al mio tre uno, due, tre adesso chi lo fa più lungo fra voi due chi lo fa più lungo? hai capito? adesso ragazzi aprite gli occhi che dobbiamo fermare uno, due, tre due, tre due secondi vediamo lui uno, due, tre uno, due, tre uno, due, tre lo scambio subio tirano bene questo bravo facciamo